cambiando, bravo, devi andare là, dai che ci sei, vedo già la canoa soffietto, è un attimo soffietto qua, adesso vi state incagliando, sempre più a soffietto, dai ragazzi che forse riuscite a fare il giro di boa e dopo tutta in discesa, si sta piegando sempre più soffietto, sempre più soffiettata. Adesso aspettiamo l'ultimo team!